In provincia di Chieti, mentre Lanciano, Tollo, Torrevecchia, Teatina, Vasto e Chieti in vista del prossimo fine settimana si preparano ad ospitare gli screening di massa tra la popolazione, aumenta il numero dei contagi nell'area metropolitana Pescara-Chieti. Ma vediamo la situazione a San Giovanni Teatino e ci colleghiamo in diretta con Marina Moretti. Buon pomeriggio Marina, come sta andando lo screening lì a San Giovanni Teatino? Sono ripresi i tamponi rapidi qui a San Giovanni Teatino, screening di massa. Dunque sì, Gigliola, siamo venuti qui proprio perché sapevamo che oggi era la giornata della ripresa dello screening di massa quindi volevamo sentire dal sindaco come sta andando, come si sono riorganizzati perché c'è stato un cambio di sede dalla scuola di Largo Voitiva siamo venuti al circolo degli anziani di via Garibaldi, una sede un po' più piccola perché verosimilmente potrebbero essere meno le persone da testare ma in tutto questo è venuto anche a seguire un po' i lavori e a far visita al sindaco anche il direttore dell'asla di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell al quale fra poco farò una domanda. Intanto sindaco, com'è andata oggi e come vi siete riorganizzati e soprattutto perché vi siete riorganizzati nello screening? Intanto ringrazio il direttore generale per la premura che ha avuto nel continuare con questo screening di massa a San Giovanni Teatino proprio. Ovviamente ricordo ai miei concittadini che abbiamo 126 positivi accertati 134 in isolamento e ne abbiamo scovati 25 asintomatici nei tre giorni in cui abbiamo fatto lo screening di massa presso la scuola Medi dei Galilei o Galilei. Ovviamente dovevamo necessariamente riaprire la scuola perché non era assolutamente possibile portare avanti questa attività in una struttura dove ci sono 1800 ragazzi quindi lasciarla a casa sarebbe stato difficile, il direttore del Presidente della Regione Abruzzo non ha inteso chiudere le scuole quindi nel giro di manco un giorno abbiamo riorganizzati qua, quindi una macchina veramente capace quasi un modello insomma di riorganizzare queste attività. Oggi abbiamo iniziato, abbiamo già avuto 130 persone questa mattina e due positivi del territorio di San Giovanni Teatino. Contiamo di fare tutte queste attività nella settimana e la speranza è che i miei cittadini raccolgano gli inviti e vengano qui da noi. Io mi sono premurato di far girare una macchina per avvisare la popolazione che stiamo qua, li stiamo aspettando. Ho chiamato le aziende sul territorio che hanno una grande percentuale di persone che vivono, insisto, sul nostro territorio. Insomma dobbiamo individuare assolutamente i soggetti positivi, asintomatici perché si esce solo così. Direttore, a parte la presa visione dell'organizzazione che immagino sia andata a genio, però il discorso è più ampio. C'è davvero questo aumento di contagi un po' in tutta la zona? Sì, purtroppo noi vediamo in tutta l'area metropolitana, Chieti-Pescara, un aumento in questi ultimi giorni. Abbiamo appunto messo sotto osservazione in questo momento San Giovanni Teatino e Francavilla sul mare, dove vengo, dove anche il sindaco ha attivato, come qui, il sindaco in 24 ore, una postazione nuova, la sirena a Francavilla al mare. C'è una bella fila, anche lì abbiamo avuto già stamattina 10 positivi su 200 tamponi, per cui la percentuale dello screening di massa è piuttosto alto, perché nel resto della provincia noi viaggiamo su 2-3 per mille, mentre qui stiamo parlando di percento, per cui diciamo siamo a 10-15 volte la media provinciale. Chiaramente noi abbiamo incominciato a rafforzare lo screening anche perché abbiamo riscontrato non solo la Guardia Grele, su cui i media hanno parlato tanto, ma anche nell'area Chiettina, diciamo Chieti-San Giovanni-Francavilla, la variante inglese, che come sappiamo si diffonde molto più velocemente delle altre varianti fino adesso presenti sul nostro territorio, per cui stiamo osservando con grande attenzione questa curva epidemica in questi comuni. Chiaramente con lo screening di massa sabato-domenica 6-7 di febbraio a Chieti-Alta-Chieti-Bassa completeremo un quadro su cui sicuramente poi insieme con la Regione prenderemo anche delle decisioni su eventuali misure. Bene, allora c'è solo da aggiungere che qui si può fare lo screening, il test rapido a San Giovanni Tattino dal mattino fino alle 12.30, poi pausa pranzo e poi dalle 15 fino a circa le 18.30, andando lunghi le 19. Quindi si può venire, persone che risiedono qui o che lavorano qui, per tre giorni. Questo è tutto, fate il tampone rapido perché insomma avete immagino capito quanto sia importante individuare anche le persone asintomatiche. È tutto, Giulio, la restituisco alla linea.